Se consideriamo che il capitale massimo che ho investito su Anyhot Music è stato di 500 euro, posso dire che da quando ho iniziato ad utilizzare questa piattaforma ho avuto un rendimento che ha sfiorato il 50%. Io sono Cristian e da oltre due anni su questo canale vi parlo di investimenti e finanza personale. E con il video di oggi torniamo a parlare di royalties musicali con un aggiornamento completo della situazione del mio portafoglio sulla piattaforma di Anyhot Music. Nei miei video vi ho spesso parlato di Anyhot Music e di royalties musicali, ma se ancora non sapete di cosa si tratta, potete trovare una spiegazione approfondita nel video che ho pubblicato circa un anno fa in cui avevo spiegato appunto come funziona questa piattaforma. In breve Anyhot Music ci permette di entrare nel business musicale anche senza essere dei veri autori. Infatti ogni volta che un brano musicale viene riprodotto dal vivo o su qualche piattaforma di streaming, all'autore vengono pagate delle royalties per compensare quello che in Italia viene chiamato diritto d'autore. Con Anyhot Music gli autori possono cedere agli investitori una parte dei proventi delle proprie royalties, quindi ad esempio quando gli zero assoluto incasseranno le prossime royalties sui loro brani, anche io che ho acquistato una parte dei loro diritti riceverò una piccola quota. Per spiegazioni più approfondite vi rimando all'altro video, ma quello che voglio fare oggi è farvi vedere nel dettaglio come è andato il mio investimento dopo quasi due anni e mezzo di utilizzo di questa piattaforma. Ho infatti aperto il mio account su Anyhot Music il primo gennaio del 2022 e recuperando lo storico vedo che ho versato un massimo di 500 euro sulla piattaforma tutti nel corso della prima settimana. Dopodiché non ho più fatto ulteriori versamenti perché i soldi che via via ottenevo da royalties e bonus erano sufficienti per acquisire nuovi cataloghi. Inizialmente infatti il mio obiettivo era quello di acquisire almeno una quota per ognuno dei cataloghi presenti in piattaforma e sono così arrivato ad avere un totale di 18 differenti cataloghi. Da questi 18 cataloghi nel corso dei mesi ho ricevuto pagamenti per ben 122 volte, per un totale di 119 euro e 44 centesimi ricevuti, di cui però 8,58 euro sono state trattenute dalla piattaforma sotto forma di commissioni. Per trasparenza vi dico che comunque ho anche ottenuto dei bonus per aver invitato altri utenti in piattaforma. Infatti periodicamente ci sono delle campagne referral con le quali i nuovi iscritti ricevono un bonus di iscrizione che generalmente è stato di 25 euro, così come 25 euro riceveva l'utente che inviava l'invito. Perciò controllate la descrizione del video perché vi lascio il mio link referral e nel caso in cui ci sia una campagna referral attiva, iscrivendovi alla piattaforma da quel link otterrete automaticamente il vostro bonus di iscrizione. Nel corso di questi due anni ho però dovuto prelevare in alcuni casi una parte del capitale che avevo investito. Perciò di soldi miei, tra virgolette, sono rimasti soltanto 140 euro, mentre tutto il resto proviene da royalties bonus e plusvalenze dovute all'aumento di valore dei cataloghi che ho in portafoglio. Il mio conto vale ora 388,48 euro, quindi è in attivo di poco meno di 250 euro, che è appunto quasi il 50% di quell'investimento iniziale di 500 euro. L'investimento quindi è andato molto bene ed essendo un asset ancora molto di nicchia, credo che continuerà ad andare bene anche in futuro. Sto però valutando se continuare con questa tipologia di investimento anche dopo la fine di quest'anno, perché a tendere vorrei un po' semplificare il mio portafoglio, eliminando categorie di asset particolari come questa, che comunque aggiungono complessità soprattutto dal punto di vista fiscale. A parte queste valutazioni personali però, il mio giudizio su Anyote Music al momento è assolutamente positivo, ma fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Nel frattempo non dimenticatevi di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Questo breve aggiornamento si conclude qui e noi ci diamo appuntamento al prossimo video.